Sai qual è la differenza tra vetro e scarti alimentari? È facile capire la differenza e da oggi è ancora più facile fare la differenziata. A Roma la nuova raccolta differenziata comincia da casa tua. Separa i contenitori di vetro da quelli in plastica e metallo e raccoglili nelle campane stradali di colore verde. E quando finisci di mangiare, utilizza la biopattumiera domestica per dividere gli scarti alimentari dai rifiuti non riciclabili. Tra discarica e riciclo c'è una bella differenziata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.